Grazie Presidente, sono Maria Angela Rosolino del Comitato Popolo Pubblico di Torino, intervengo solo all'integrazione il più brevemente possibile, perché questo è di cui lei ricorda e la Presidente del Consiglio Comunale a presentare la nostra nome al Consiglio Comunale, ai nostri amministratori, ai quali, devo dire, improveriamo, amabilmente per ora, una certa disattenzione su questi problemi. Ricordiamo che il Consiglio Comunale, io lo semplifico, il Consiglio Comunale è il padrone di SMAT, SMAT è il nostro idraulico ed è il padrone di casa a dover dire cosa l'idraulico deve fare e purtroppo il Consiglio Comunale non lo fa. L'articolo 42 del testo unico degli enti locali su questo aspetto è chiaro, ma non solo. Lo stesso Consiglio Comunale fa è un'operazione di un'operazione di un'operazione discutibile, ma comunque non è questo il momento di mettermi in discussione, di accesso al credito al mercato, insomma, che ha fatto SMAT alla Borsa di Dublino per procurarsi 150 milioni di euro per fare gli equedotti, in quell'occasione proprio in base alla legge la SMART è uscita dalla giurisdizione del testo unico degli enti locali, tant'è che si comporta come una società per azioni sul mercato, tuttavia proprio per questo il Consiglio Comunale all'epoca aveva stabilito, deliberato che ogni sei mesi SMART sarebbe stata provocata nelle competenti commissioni del Consiglio per riferire sull'andamento dell'azienda e per gli indirizzi che comunque l'azienda doveva seguire in base alle decisioni del Consiglio Comunale. Non ci risulta che queste esperienze siano state rispettate e nel frattempo sta succedendo tutto quello che Mauro ha detto finora. L'ultima cosa che volevo sottolineare è il documento unico di programmazione approvato dal Consiglio Comunale, lo trovate in coppia nella verbena dei giornalisti che vogliono leggerlo, ma è di una genericità molto molto preoccupante che ci lascia male sperare se, se, speriamo, il Consiglio Comunale non adatterà una delibera più incalzante rispetto ai doveri di SMART. Non si chiede niente di particolare se non di applicare la legge, stati citati già i casi, l'ultimo proprio accenno che faccio è alla tariffa. Credo che il Consiglio Comunale debba, mi invitiamo la Presidente a farlo presente ai suoi colleghi del Consiglio Comunale. La tariffa è una tariffa che è vero, SMART applica i criteri che vengono fissati a livello nazionale, veramente, ma questi criteri vanno verificati. Presidente, non vorranno che, dato i giornalisti lo facessero sapere i cittadini, che pagano indebitamente delle spese. Per esempio, i cittadini di Torino, che è provincia, pagano l'acqua anche se non la consumano, attraverso il cosiddetto convalido. SMART decide che vende, diciamo, 100 litri d'acqua, ne vende 98 e però addebita ai 20, 100 litri d'acqua. Quindi paghiamo anche l'acqua che non consumiamo. L'altro aspetto sono le onorosità. Un conto è la solidarietà verso chi non riesce a pagare la bolletta per le condizioni economiche proprio per la famiglia e quindi benvenga la solidarietà di tutti gli utenti che coprono questo tipo di onere per le famiglie e meno ambienti. Un conto sono gli abusivi, quelli che non pagano perché non rispettano la legge. Ebbene, lì, SMART, con il consenso di Herrera, fa un tottuno, dice, una perdita della debita di bolletta sia che sia dovuta alla necessità sia che sia dovuto all'abuso. Ecco, queste cose dovrebbero essere oggetto di esame, di approfondimento e di misure, di indirizzi che noi mettiamo appunto in questa delibera che ci auguriamo che il Consiglio Comunale approvi senza modificarla come purtroppo in passato e in travenuto. Grazie. 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 Grazie.